Con il monopattino elettrico a Bergamo, io circolo virtuoso. E tu? Sai come circolare in sicurezza con il monopattino elettrico? È vietato utilizzare il monopattino elettrico sotto i 14 anni. È obbligatorio indossare il casco tra i 14 e i 18 anni. Devi circolare ad una velocità massima di 20 km orari su strada e nei centri abitati e di 6 km orari nelle aree pedonali. Ricorda, è vietato circolare sul marciapiede. Non devi trasportare altre persone, oggetti o animali. Mi raccomando, mani sul manubrio. È obbligatorio avere i dispositivi di segnalazione, ossia il campanello, le luci, il giubbotto o le bretelle retro riflettenti dopo il tramonto. E di giorno, se le condizioni atmosferiche lo richiedono. È vietato parcheggiare di fronte a pensiline, portoni d'ingresso, scale e passaggi pedonali. Potresti essere d'intralcio. È vietata la circolazione di Segway, Monowheel, Overboard. Segui queste semplici regole, così potrai dire anche tu, in monopattino, io circolo virtuoso. Grazie per la visione!